Allora, una volta gli fici questa domanda, gli dissi, ma scusa Paolo, ma perché quando c'è la partitina tu vai a fare l'attaccante? E lui mi disse, perché così mi preparo alla marcatura nel momento in cui quando sono alla domenica in campo, le possono mettere una marcatura uomo. Cioè lui già prevedeva il fatto che essendo un giocatore importante, rigiocava come De Rossi in questa posizione qua, potesse avere il trequartista avversario che gli poteva rompere le scatole all'inizio del gioco. Allora lui che faceva in allenamento? Andava a giocare, e questo era il campo, lui andava a giocare davanti, a fare l'attaccante. In pratica stava sempre con le spalle alla porta, con l'uomo attaccato, però lui dice, mi abituavo a sentire il contatto con l'uomo, a sentire, diciamo, la difficoltà, perché poi i tempi sono minori, più vai avanti a giocare in un campo di caccio, questa è la tua squadra, più vai verso la squadra avversaria, più gli spazi si distringono, giusto? Perché la squadra avversaria si stringe, si chiude, e lì l'abilità dopo diventa, chi ha più abilità a livello tecnico e rapidità riesce a fare la differenza. Vedi Napoli di Sarri, no?